È stato presentato oggi al Pontefice l'Evangeliario della Misericordia. Il volume propone il testo integrale dei quattro Vangeli con le indicazioni necessarie alla proclamazione liturgica di tutti i testi delle domeniche, delle feste e delle solennità. Particolare rilievo è riservato ai brani che trasmettono le sfumature della misericordia di Dio e che possono essere valorizzati non solo nelle celebrazioni giubilari ma anche in quelle dell'iniziazione cristiana o in quelle legate all'esperienza del perdono di Dio. Questa edizione si avvale della traduzione della conferenza episcopale italiana, della bellezza dei mosaici di Marco Ivan Rupnik riprodotti al suo interno e dei testi introduttivi di Don Alessandro Amapani.